Musica 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 Ma il secondo lock è così libera da anni Non c'è che me Ma la porta Non ho altra scelta Non so E vi ho fatto iniziare purtroppo con questo monologo tagliato a metà E la prossima missione parte dal rifugio A Parker Square Non vi ricordo mai il nome di questo quartiere Intanto ho prelevato 25.000 dollari sti cazzi Danni collaterali Eccola Clara lasciala stare Per ora Spoiler Ho troppe cose Già Ok, vieni qui, dai un'occhiata Lei chi è? Non lo so, il file è danneggiato Come posso riprodurre questo video? No, è impossibile Ti serve l'originale Sto facendo una ricerca sul tuo accesso al sito S È di questo che volevo parlarti Senti, non credo che lui ne sappia nulla Se ne sarebbe andato Di chi parli? Forse lei è un indizio O no Devo essere un passo avanti Sei nei guai? Un indirizzo IP? Sì, me l'ha dato lui Puoi scoprire di chi è? Cos'è questa storia? Aiden Rispondimi Non farò niente più L'ha rapita, Clara Sta Sta Usa mia sorella Come ostaggio Oh, cazzo Quello che hai rintracciato Sì Damian Damian Brains Io Non posso aiutarti Devo andare Che stronza Vieni qui Che succede? Copri le orecchie Fatto esplodere la parete Addio rifugio Addio rifugio Preso in testa Membro del dead sec Dov'è la tua auto? Di qua La giù Sul balcone Eh, zia Un attimo Ok Uno in testa ha fatto fuori C'è da proteggere gli aliati come in Assassin's Creed qui? Ok Un altro fatto fuori Fammi andare qui Bastardo Ok, buono Unciso, ne metteranno Neutralizza Ecco i rinforzi Ma, no, ma L'ho fatto per naturalizzare, raga Ma è un culato Ma è un culato malissimo Via, se no spreco troppi Troppa concentrazione per nulla Qua potrei fare così Ma perché non Esplodi? Oh Cazzo Buono Via Scoppiato anche un blackout nel frattempo Così Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Zio, aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Oh, cazzo Fammi fabbricare Via Via Fuori Benissimo Fuori un cecchino Ce ne sono altri due Fuori un altro cecchino Fuori anche il terzo cecchino Fuori un combattente Fuori un altro combattente Ok Ah, la sua macchina Sta stronza Prevedo i versi Cazzi nel culo adesso Unità di rinforzo sul posto Perché mi è imbalzata la bomba, raga? Raga, sono circolato sia avanti che dietro Via Via Neutralizzato Forza Via la macchina Via la macchina Via la macchina Qui ci penso io Ma come ci pensa lui? Ma no Ma perché? Dove sei? Eccolo Il bastardo Ah, mi tocca scappare Perfetto A posto Pulito Ma dimmelo prima, no? Cioè mi ha fatto tornare indietro per niente Va bene Stiamo anche un dissuasore Così siamo a posto Ebbene così Clara Tutto a posto No che non è tutto a posto Sì Dimmi chi sei Non so Aiden So dove possiamo parlare Vieni Vabbè La missione intanto Danni collaterali È finita Io penso che abbiamo a questo punto Perso il rifugio al motel Perché Sennò non avrebbe senso Quando mai ho fatto quello che fanno tutti Era una battuta Non ci sono più abituato Godin Non capiterà di nuovo Ho perso la mia rete Mi serve equipaggiamento Non mi riguarda Non hai voluto fare gioco di squadra È un tuo problema Quanto glielo rinfaccerà ragazzi? Mi serve concentrato È bellezza Tuo fratello vuole parlarti Aiden Jax Jax sta bene Sta benissimo Dove sei? Non lo so Fa freddo Mi hanno tenuta sempre bendata Ho paura Aiden Lo so Mickey Vengo a prenderti Conosco Damien Non è pazza Non ti farà male Però Stai attenta In che senso lo conosci? Mi ha rapita L'ha fatto per arrivare a me Cosa? Tempo scaduto Oddio Ma che le hai detto? Poverina In lacrime Damien Ripassamela Se vuoi continuare la chiacchierata Segui l'indirizzo IP E portami qualcosa di utile Che pale con sto indirizzo IP Vabbè Ehm Ovviamente Damien Essendo un hacker Non si può rintracciare la chiamata Ma lo faccio parlare Così forse scopro Dov'è Zona dello stadio Dove Tutto inizia Ehm 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 Ehm